Freselle farcite, buonissime per l'estate. Tagliare di pomodorini e versare in una ciotola. Sale e pepe e un filo d'olio. Uno spicchio d'aglio e mescolare. Un po' di erba cipollina o basilico. Bagnare le freselle nell'acqua. E ora potete farcirle come volete. In alcune abbiamo messo un po' di tonno. I pomodorini. Le olive e anche un po' di pesto. Abbiamo aggiunto anche un po' di burrata fresca. Le altre abbiamo fatto con burro spalmato e acciughe. E' un'ottima idea per un aperitivo in estate. Che buone! Per l'estate sono buonissime. Sono buonissime e croccanti. Per l'estate sono buonissime per l'estate. Grazie.